Benvenuti in casa 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 uno sconto in più se fatto un finanziamento e dei servizi che possono essere i pacchetti assicurativi oppure il pacchetto dei tagliandi. Proposte molto interessanti ci sono anche nel mondo delle chilometri zero, se volete veramente la pronta consegna e soprattutto risparmiare ancor più chilometro zero. Assolutamente, abbiamo delle vetture aziendali poche e qualche chilometro zero e vi posso fare un piccolo elenco, abbiamo delle Clio ibride che sono introvabili, abbiamo dei Captur ibrido plug-in, delle Megane Berlina sia benzina che diesel chilometri zero, delle Megane Sporter quindi la station wagon ibrida plug-in, abbiamo alcuni Scenic, abbiamo una splendida Espace e delle Zoe completamente elettriche chilometri zero. Bene non c'è che l'imbarazzo della scelta approfittatene dunque ma io vi dico che Rabino Auto pensa anche al vostro lavoro e vi supporta con dei mezzi commerciali veramente al top, vediamo. E' mio piacere rivedere Valentino Ascani, l'esperto dei veicoli commerciali che fa parte naturalmente del team Rabino Auto che ci deluciderà su questi mezzi ma soprattutto sulla grande novità in casa Renault. Certo, volentieri, il nuovo Kangoo Express Van è una novità, riusciamo ad avere in pronta consegna qualche mezzo, motori benzina, diesel e con delle dotazioni di serie molto interessanti. Qual è la peculiarità di questo mezzo? Sonia, è una novità incredibile proprio per chi deve caricare, eccolo qua, Open Sesam by Renault, un carico senza montante sulla portiera, lato passeggero, quindi riusciamo a caricare tantissimo fino a due metri e trenta circa, quindi incredibile. Spazio a volontà dunque ma altrettanto spazio lo vediamo nel mezzo accanto, questo traffic ben nove posti destinato non solo ad un uso commerciale, quindi non solo al vostro lavoro ma anche a famiglie numerose, insomma lunghi viaggi. Sì esatto, infatti è dedicato un nuovo traffic anche per le famiglie, è una storia che dura dal 1980, pensate, è una terza generazione con un design ancora più curato, con un'offerta di assistenza alla guida di ultima generazione come tutte le nostre macchine dell'ultimo momento. Dotato di nuovo sistema multimediale EasyLink 8, un abitacolo confortevole, spazioso fino appunto a nove posti, motori diesel anche col cambio automatico, adottiamo anche regolatori velocità adattivo, novità per quanto riguarda questo mezzo, la frenata d'emergenza anche su strade extraurbane, ideale appunto per i clienti professionisti, taxi, noleggiatori, club sportivi ma pensato appunto per le famiglie numerose e perché no portatori di handicap. Due lunghezze, passo corto e passo lungo. Un mezzo molto molto interessante. Ampia scelta di vetture aziendali da rabino auto, ce n'è davvero per tutti i gusti, benzina, diesel ma anche elettrico ibrido che riguardano un po' tutta la gamma Renault. Assolutamente qui abbiamo un esempio di una Clio full hybrid con pochissimi chilometri, pochissimi mesi, una vettura che utilizziamo noi a fare le prove con voi clienti quindi non ha mai corso diciamo così. Ci sono dei finanziamenti assolutamente adatti a questo tipo di vettura quindi accogliamo tutte le vostre richieste e una cosa che dico così in anteprima ancora senza averla studiata a fondo però stiamo studiando in rabino sulle vetture aziendali sul chilometri zero una nostra campagna rottamazione per cui se avete una vettura da rottamare in questi giorni dopo che avete visto la trasmissione vi sapremo dire questa nostra promozione che sarà sicuramente di vostro gradimento. Molto interessante questa campagna rottamazione sulle vetture aziendali approfittatene dunque per le vostre vacanze venite ad acquistare la vettura da Rabino Auto. E concludiamo in casa Dacia un altro brand che Rabino Auto rappresenta egregiamente con una nuova arrivata splendida tutta elettrica la Spring. Sì la nuova Spring è completamente elettrica è l'ultima nata di casa Dacia naturalmente gode delle agevolazioni statali per la campagna rottamazione è arrivata venite a provarla vi aspettiamo quest'estate noi saremo sempre aperti ad Avigliani in corso Torino 18 a Pinerolo in corso Torino 240 vi aspettiamo. Grazie Carlo esaustivo e competente come sempre io ti ringrazio ringrazio voi per l'ascolto e vi ricordo Rabino Auto passion for life